In settimana l'organo amministrativo contabile della Lega Pro, la Covisoc, procederà delle verifiche sui libri contabili del Campobasso. Se dovessero essere riscontrate delle irregolarità e facciamo queste affermazioni con il beneficio d'inventario, sarà compito e della Covisoc stessa in prima istanza, eventualmente poi anche del Tribunale Fallimentare di Campobasso, accertare le responsabilità del caso e trarne le conseguenze dovute. Di Palma non iscriverà il Campobasso e il Lega Pro per il mancato accordo con Equitalia di un piano di rientro che era già iniziato e non più concesso per il mancato temperamento da parte del Campobasso di sei rate. Il debito in questione, e lo certifica anche il prospetto riepilogativo dei debiti della società, è di 788.082 euro. Prospetto allegato all'atto notarile redatto lo scorso 4 giugno presso lo studio legale del notaio Giordano. Non vogliamo addentrarci in elaborati tecnicismi che probabilmente farebbero spazientire ancora di più un tifo campobassano arrabbiato per l'addio alla Lega Pro ma soprattutto per una situazione che era chiara fin troppo sin dal passaggio di consegne da Capone a Di Palma avvenuto all'inizio del mese. Le spieghino pure ai tifosi tutte le ragioni giuridiche e finanziarie del caso i signori Capone e Di Palma. Non è che strapperebbero applausi ma probabilmente solo fischi per aver mandato all'aria qualcosa di bellissimo. Quali scenari dobbiamo aspettarci? C'è Di Palma che ostenta una cinica tranquillità confermando di essere socio del Campobasso 19 e che con tale società sarebbe possibile mandare avanti un discorso serio e strutturato magari con ancora sullo sfondo la fatidica convenzione che non sappiamo quanto sia disposto a firmare il comune di Campobasso a questo punto dopo gli ultimi fattacci. Ma scusate, a chi interessa giocare un campionato di eccellenza con il lumicino della speranza di essere ripescati in Serie D? A pochi, anzi a nessuno. E allora se proprio fallimento deve essere lo accoglieremmo mortificati per l'addio al professionismo ma comunque vogliosi di ripartire a precise condizioni finanziarie dalla categoria immediatamente inferiore. Magari aggiungiamo con uno sforzo economico di un gruppo di Campobassani che sia di 7, di 8 ma anche di 10 persone che si coalizzino ma soprattutto che si scrollino di dosso i fantasmi di Capone e Di Palma due personaggi che hanno giocato a un gioco cattivo sulla pelle dei tifosi rosso-blu. D'altronde, storie del genere le abbiamo viste raccontare in piazze importanti prendete Taranto, Foggia ma anche la stessa Messina. Non sarebbe male che i Campobassani si riappropriassero del patrimonio calcistico della loro città. Iscriversi in Serie D? Per iscriversi in Serie D servirebbe un versamento a fondo perduto di 300.000 euro in aggiunta a un assegno circolare di 19.000 e a una fideiussione di 31.000 euro. L'ultimo giorno utile dovrebbe essere il prossimo 19 luglio.